Sono rimasta ad aspettare qui troppo tempo, ehi signora che mi deve adottare Ma non c'è nessuno Signora? Ehi c'è qualche adulto? Ehi? C'è qualcuno? What the? Oh mio dio ma chi siete voi? Oh mio dio ma siete caduti dal soffitto? What the? Ma che diavolo? Oh mio dio chi siete? Perché siete così strani? Che cosa avete fatto alla signora delle adozioni? Sei tu la bambina nominata Jenny? Eh sì, sono io, che cosa volete? Oh mio dio chi siete? Perfetto Cercavamo proprio te, fantastico Noi siamo i super ninja di questa città Ok Ma questi sono scappati da un ospedale psichiatrico Eh ok sì sì, super ninja, certo E tu? Sei la prescelta Ehm Ok Che cosa significa la prescelta? Che cosa vorrete farmi? Diventerai la nostra apprendista Ehm Ok Serve sempre all'Italia alla fine delle frasi Comunque È la prossima regina dei ninja Ehm La prossima regina dei ninja Ma se io non so neanche fare le scale a due a due Ma per favore Ma di cosa state parlando? No 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 Io sono una bambina Devo essere adottata da una famiglia normale Non vuoi esserlo vero? Tu Eh Tu vuoi esserlo vero? Ehm Guarda Ehm Ringrazio l'offerta Ma vado avanti No anche Non voglio esserlo Anche perché c'è il cattivo Tira No Devi Sentite Io non so come vi chiamate Non so esattamente che cosa volete farne di me Ma Ehm Non accetto Grazie Passo proprio Ehm Ci vediamo magari un'altra volta Ehm Ok Sveglia Ehm Sì Che cosa è successo? Mio Dio Mi avete robito? Ehi 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 Sei sveglia? Sei pronta? Ehm Ehm A fare che cosa? Io non volevo far parte dei ninja Perché Sero costretto Che cosa volete farmi? Che cosa volete farmi? Stai per fare una mega sfida Per prepararti Perché se non accetti Sì Se non accetti Verrai divorata dai nostri amati pesciolini I piragna Ma come i piragna Poi Mi sembra vuota Questa Questa piscina in realtà Però ok Ok Ehm Mi fate paura con quei bastoni Come li girate Va bene Accetto Accetto Voglio essere un ninja Ok Oh mio Dio Ora mettete via quei bastoni Per favore Sì Anche se la piscina era vuota Ok Ecco Me lo immaginavo che era vuota Che cosa devo fare adesso Per liberarmi Mi prego Perché questo è il tuo primo allenamento Devi liberarti dalle manette Che fai No mi stai spingendo Oh mio Dio Liberarmi dalle manette Oh mio Dio Come dovrei fare Oh Dio Ok ci sarà Un modo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Oh mio Dio Eccole qui le manette Oh Gesù Che Che ho bisogno di un po' d'aria Tieni Tieni Non voglio più vederle Oh mio Dio Che cosa Siete pazzi Io Ho tipo Sei anni Non potete farmi fare queste cose Brava No No Sentite Sono diventata un ninja così Abbiamo finito Sono esausta Il resto Il resto sarà più difficile Oh Gesù Ah vero Possiamo fare qualcosa di divertente Questo è solo l'inizio No Ok ok Dove andiamo adesso allora Solo addestramento Via con quel bilè da schifoso Sarà molto difficile Ok ok Dove andiamo Mi prego portatemi da qualche parte Che cos'è questo E perché c'è un cavallo Questa è casa tua Casa mia Ok La mia roba casa Gradirei se smettessi di parlare così Però va bene E qui mi devo allenare È un posto di allenamento A me sembra una villetta Attento alle trappole Oddio Alle trappole Quali trappole? Ci sono trappole? Tipo sul tuo letto Sul mio letto Qual è il mio letto? Ah boh Oh mio Dio E questa è la trappola Ok Comunque mi avete detto Che è pieno di allenamenti Qui mi spiegate un po' Come funziona questa casa Qui è la nostra super casa Di allenamento Ok Ma attenta Che cosa? A parte il letto Che cosa dovrei stare attenta? Quante cose devo stare attenta? Ci sono dei pericoli Ok Tipo Ad esempio Un po' di cibo è avvenato E un po' no Ok Quindi devo riconoscere il cibo avvenato Ok uno Vai La vasca dietro di te Raggiunge i 3000 gradi Ok Sto segnando tutto Eh Tutto tutto Ok poi Che cosa altra abbiamo? Ci sono dei laser che si muovono E ti dividono a metà Ok Sono quelli lì Vero? Questi qua Dovrebbero essere i laser Quelli della cucina Ok Allora laser che ti dividono A metà Ok Poi Cosa abbiamo? Vai Eh Sì E il microonde esplode Oh Madonna E il microonde che esplode Ti prego Dimmi che sono finite qui Troppe cose da ninja La casa inoltre Come va qua? Può prendere fuoco La casa può prendere fuoco Ma è un allenamento Ma stiamo scherzando Ma davvero? Oh mio dio La casa può prendere fuoco Mi sembra un po' drastico Signor ninja eh Però adesso guarda la tua camera Ok Quale sarà la mia Oh Quella lì in fondo Non lo immaginavo È la più piccola Oh Oh Eh oh Carina Sembra confortevole Signor papà eh No Signor ninja Ehi Oh Non mi può tenere Rinchiusa qui Oh Signore Oh mio dio Ero rinchiusa Della mia stanza Posso almeno accendere la luce Oh sì Almeno questo Signore Mi liberi Oddio Come devo aprire Questa porta È una prova È una prova pure questa Forse sì Forse è una prova pure questa Devo cercare un modo Un modo di Di fuggire C'è la finestra C'è la finestra Lo posso fare Ok Uno Due Oh Wuhu Ah ce l'ho fatta Sono uscito dalla finestra Vedi come imparo in fretta Sono un ninja Ormai esperto È incredibile Eh già 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 Ti ho sorpreso Vero papà ninja Lo sapevo Ma adesso avete Sono un po' Eh Eh Dotata di queste cose Sa Vieni un attimo Eh Dove stiamo andando Non voglio fare la cosa con i laser Eh Sarò più for mai Ok lui lo può fare Ok va bene E devo entrare qui Ok ci entro Ma non c'è modo di uscire Papà Dai ti prego Fammi fare un altro allenamento Questo è troppo difficile No Ma papà Aspetta Oh mio dio Come dovrei fare Oh Forse ho capito Forse devo schiacciare In serie questi qui Per aprire la porta Allora Eh Proviamo prima con i blu Poi i verdi Verde Blu Verde Blu Blu Verde Oh si è aperta Hihihi Ma sei troppo in gamba Papà avete scelto la bambina giusta proprio Wow Fantastico Uno Due Uno Due Uno Due Oh mio dio Perché mi sto allenando così tanto Non mi avete dato un cielo di tre Qua Questo bastare Ok Forza vigore Devi fare Cento Ne sto già facendo Cento Ma perché ci stiamo allenando così tanto Da quando mi avete adottato Che non ho smesso di allenarmi Mi puoi spiegare almeno perché Forse è il momento Ecco direi Seguimi sul divano Oh mio dio La prima volta che mi siedo Da quando sono con voi Ok papà Dimmi pure Allora Devi sapere che da un po' di mesi C'è un ninja cattivo Che ha preso il controllo della città E non ha intenzione di andarsi Nemmeno che qualcuno non lo sfidi Quindi è per questo che ti stai allenando Per sconfiggerlo Quindi vuoi praticamente Tu sei la prescelta Lo batterai Ok volete praticamente Che io diventi la regina dei ninja Di questa città in pratica Esatto Beh sapete che cosa Io mi sento abbastanza pronta Ho fatto tutto quello che mi avete detto Ho imparato a scappare Ho imparato che questa cosa Può arrivare a 3000 gradi E a sopportare Un bel po' di gradi Ma non 3000 E tutto il resto Quindi direi che Sarò pronta Mi serve solo un outfit adatto Tadà Queste scarpe mi fanno pure più alta E posso dare meglio i calci Sì sono tutta pronta Per fare Per essere la regina dei ninja Perfetto Se ti senti pronta Andiamo Certo che mi sento pronta Andiamo famiglia ninja E qui dentro è giusto What the Ehi fermo lì Tu schifoso Ho delle cose da dirti Sei tu quello cattivo Che comanda questa città Eh Eh Beh se l'ho venuta A potesterti il posto Ok Ma come ok Ma mamma papà Ma ditegli qualcosa Non sottovalutarci Ecco Non sottovalutare i miei genitori Vai Addosso Oh Oh Si sta spostando Ma lo sta schivando Ma che succede Oh Oh mio dio Ha steso mio padre Con un solo calcio Cosa Tu Eppure mia madre Si è ristesa del computer Mamma papà Oh mio dio Ma come dovrei batterlo io Questo tizio Mi cazzano così forte Beh Sai che ti dico Ci devo pur provare Giusto Eeeh Ok Mirerò ai piedi Scusi signore Ancora Oh si Ma a me non conosci Ho un'arma segreta Ovvero Che cosa Quel bastone Oh no 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 Lo so che un bastone Non può farti niente Perciò mi sono portato Un fucile a pompa Quindi per favore Mi segua Esca dalla stanza Prima che io le faccia Assertare il cervello Per favore Ma che Si si lo sa Io me lo immaginavo Che lei era troppo forte Come ninja Rispetto ai miei genitori Quindi per favore Esca Ok non faccia domande Fuori fuori Grazie Arrivederci Ah Raghi A volte Le armi dei ninja Non funzionano sempre Ma le pistole si Quindi sono comunque diventata La nuova regina dei ninja Con pistole O senza Perciò Tratterò questa città Come meglio Si merita Grazie a tutti Grazie a tutti